Nella settimana in cui il Paese tocca il tasso di disoccupazione più basso della sua storia e i nostri politici di rango, da Renzi a Crocetta, si regolano nelle scuole per scoprire giovani talenti musicali, in un Consiglio Comunale del Profondo Sud capita che una Presidente debba prendere carta e penna e invitare in un'accorata lettera i consiglieri ad essere tutti presenti alla seduta di domani. Se la cosa prende piede per quanto attiene al delicato tema delle assenze presenti, si potrebbe vedere a breve un dirigente scolastico che scrive ai Bidelli, un commissario di Polizia che scriva ai suoi sottoposti e perfino un sacerdote che scriva ai Fedeli invitandoli ad andare più spesso in chiesa. Eppure per quanto riguarda i consiglieri comunali, un po' tutti hanno fatto fuoco e fiamme per farsi eleggere e poter rappresentare i cittadini che gli hanno dato il voto. Poi però, chissà perché, questo sacro fuoco svanisce. Tra l'altro, dato curioso, è che da un recente sondaggio a proposito del Consiglio Comunale di Vittoria risulterebbe che coloro che fanno registrare più assenze sono poi più presenti e visibili sulla stampa e nelle tv, sorridente in primo piano, hanno sempre la soluzione per ogni problema, come dire assenti fisicamente ma sempre pronti a dare una mano alla città.